Ascotrade regala una nuova fabbrica dell'aria a Morgano. 800 alberi piantati in via Donchester, via Marcello e nel giardino delle scuole Marconi e Crespani. Tre nuove aree verdi a disposizione della comunità e dei bambini, in un continuo scambio tra uomo e natura. 600 tonnellate di CO2 assorbite dalle piante nell'intero ciclo di vita. Dopo Pordenone e Morgano, un'altra fabbrica dell'aria crescerà a breve anche a Treviso. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto aziendale a favore della sostenibilità, denominato ARIA. Il gruppo Ascopiave rispetta l'ambiente.